Non ci sono dubbi che sia un momento molto delicato per la Tarros Spezia, di nuovo sconfitta e questa volta alquanto nettamente di 19 punti a Siena da quel costone in cui stanno impazzando gli ex bianconieri Paoli. Sono due giamelli come tutti ricorderemo. Costone e Siena peraltro adesso terzo in classifica nel pertinente raggruppamento di serie B interregionale di basket maschile insieme a quella retina che al Pallasprint sarà il prossimo avversario dei Tarrosiani. In questi ultimi giorni, visto che da parte loro invece gli spezzini sono terzultimi seppur in coabitazione, due fattori si sono intanto proposti mentre ci si allenava come si vede da queste immagini come elementi di mobilitazione, di ripresa come vogliamo dire. E sono stati uno l'intervento dialettico del presidente Danilo Caluri che chiama la squadra ad una sorta di sveglia e l'arrivo dal Livorno della 34enne guardia trevigiana Federico Oloschi che ha peraltro un passato pure di serie A. Sono arrivato per dare una mano. Non sarò il salatore della patria ma vengo da tanti anni di serie A e vengo da due anni a Rieti, due anni a Livorno dove sono piazze importanti, c'è tanta pressione. Sono venuto in un posto che tante persone me ne hanno parlato bene, in una famiglia Maurizio e Danilo hanno fatto di tutto per prendermi e quindi sono contento. La squadra l'ho vista e l'ho conosciuta la settimana scorsa e mi è sembrata sicuramente una squadra che ha voglia di recuperare, di riprendersi da un brutto momento. Io spero di essere quel collante che manca per arrivare fino in fondo e l'obiettivo sicuramente è di entrare tra le prime sei. Questa volta cercheremo di riprenderci quello che credo che loro e la mia voglia di venire qua si merita.